Benvenuti in questo nuovo video dove i miei capelli fanno abbastanza schifo, come sempre d'altro onde. Ero qua il mio collega dietro che mi farà le domande. Praticamente a alcune ragazze che ho sui gruppi di Facebook, c'è un gruppo che non so chi l'abbia creato, ma comunque, di Netflix, che gli ho detto che ho visto tantissime serie di Netflix, mi fa. Eh, ho visto che è un canale YouTube, perché non fai un video dove dici tutte le serie di tv che hai visto? Dicevo che non è facilissimo, quindi grazie al mio ragazzo che mi assisterà. Ecco. Non tocco solo questo, non lo dico. Mi assisterà a farci, abbiamo praticamente... Ne ho viste tante, ma tante. Sì, ne ho viste abbastanza, quindi non potevo scrivere tutte, quindi lui ha aperto l'app di Netflix, anche perché abbiamo cambiato anche account un po' spesso, quindi adesso rimaneremo sempre lo stesso, però non me ne ricordo tutte tutte, anche perché alcune le ho anche riviste addirittura, quindi... Lui mi elencherà delle serie tv, dirò se l'ho vista o meno, così c'è come mi fa. Allora, è veloce, si spera, più o meno, insomma. Allora, vai amore. Teeny Pretty Finks. Come pronunciare l'inglese moriremo tutti. Quello dove ballano, l'ultimo che abbiamo visto del ballare. Come si chiama? Pretty? Pretty Finks. Pretty Finks, sì. Sì, sì, sì. Pretty Finks. Poi la The Andred. The Andred. Snowpierce. Allora, la serie Snowpierce che è ancora in corso. Poi ho visto The Orphan Black. Sabrina. Sì, Sabrina, quelle le magiche avventure di Sabrina, tenebrose. Sì, ho visto tutto fino all'ultima stagione. The Order. The Order, sì. Strange and Finks. Qual era The Order? The Order è quello che hai visto tu. E che cos'è? Mi sembra. Ah, sì, l'ordine, sì, sì. L'ordine. È molto carino The Order. Poi Stranger Things. Finks, che l'abbiamo finito adesso la terza stagione. Molto bello. Grazie alla ragazza che me l'ha consigliato. Sì, grazie. È sempre una ragazza che ho visto su questo gruppo Netflix. Che poi la ringrazio. Mi ha detto, guarda perché ho visto anche Dark. Promettiamo in mezzo alla lista. Dark, anche. Sì, ci assomiglia molto, diciamo. Poi non so chi sia nato prima. Se è Stranger Things o Dark. Stavo scegliere un nome più facile. Shadow Hunter. Shadow Hunter. È stato primissimo. I Zombie. I Zombie. Travelers. Ragnarok. Ragnarok, sì, che era qua. Non era quello di Thor, giusto? Sì, quello. Poi The Rain. The Witcher. The Witcher. Bello di Witcher. È quello che mi ha fatto prendere la PlayStation. Che poi non è mia, non è mio ragazzo. Sì, è quella pro. Poi Ragnarok, poi ho detto 3%. Phantom, The Rain. Poi c'era uno sulla nebbia, se non sbaglio, ma non mi ricordo il titolo. Poi, comunque, è la nebbia tradotto. Biohacker. Biohacker. Che era quello, perché quello è molto bello, quello delle zanzare killer. Delle zanzare killer, quello era bello. Dan Listed, che è stato uno degli ultimi che ho visto, quelli che sono non in lista, fatto anche, l'ho consigliato anche tra quelli più carini che ho visto. October Faction. October? Faction. Non l'ho mai visto, ho messo nella lista, ma non l'ho mai visto. No, l'abbiamo visto insieme, ammira. No, non l'ho mai visto. Dico di no. Questo qua. Qua devo non ricordarmelo. No, non te lo ricordo. L'hai tolto proprio. No, la mia è messa, perché non mi piace, non cazzo. Ma io sono nella mia pagina. Questo qua l'abbiamo visto insieme. Eh, che cosa parla? Andare sulla mia no, eh? Vabbè, però era della famiglia che prendeva, che con il telefonino vedeva i cattivi. Mai vista. Te lo posso girare. Hai visto solo il tuo amore. October Faction non l'ho mai vista. Anche perché non ho mai la fotografica. Dite. Dico di no, no. Qua sul mio account, perché vai sul tuo. Perché non me l'ha fatto entrare. Aspetta. Comunque poi, allora, The Andreda, che continuo a dirlo all'infinito. I Zombi l'ho detto, Travelers, che è molto carino, l'ho visto due volte. The Merlin. The Merlin? Non The Merlin, Merlin. Si chiama Merlin, che sapevo, la serie tv di Merlino. Che poi non è esclusiva Netflix, però l'ho vista tante volte. Mi piaceva. Poi ho visto Van Helsing. Poi ho visto anche... Quello schifosissimo... Ares, il film più brutto della storia del cinema in vita mia. Poi ho visto... The Zone Creek. The Zone Creek, lo sto riguardando adesso, ma l'ho già visto. The Zone Creek, poi Chica Vamp, che è l'unico serie tv che non ho mai finito, perché è un po' diventata una piaga. Gen The Virgin, che non l'ho mai finito nemmeno quello, perché era orrendo, sono tutti spagnoli, non voletemene male. Sono nel tuo account, l'hai vista? Mi ha fatto molto schifo che non me la ricordo. Ho visto The... come si chiama? October Faction. Non me la ricordo. L'ho vista, ma non me la ricordo. Giù che me la ricordo. L'abbiamo vista insieme. E di cosa parla? Vabbè, poi la racconti. Andiamo avanti. L'ho vista, vabbè. Di così dice Netflix. Mi sono addormentata mentre la guardavamo. Are you the mother? Of you the mother? Ah, come ho conosciuto la madre. Facciamo prima... Quello è bellissimo. L'ho vista tante volte, ma è veramente bello. Fino alla fine mi sono stata piangere. Andiamo avanti. Hai visto La Biblioteca della Magia? Che bella. La Biblioteca della Magia è bellissima per ragazzi. Guardatelo, perché è bello. Vabbè, le Winx. Le Winx, ovviamente. Perché non ci sono da cazzo con le Winx. Riverdale. Riverdale è bello. Riverdale è l'elita. Ho visto anche che è bellissimo. Ashley e Garzia. Come si chiamano? Ashley e Garzia. Sono tutte da rivedere, perché tu l'hai già vista allora. No, fammi vedere com'è fatta. C'è bloccato, amore. Che è fatta? Bloccalo. Sì, ma non mettendo la mano con la telecamera. Può cliccare sopra. Ah, sì, sì. È quella della... È un po' come tipo Sheldon da piccolo. C'è una ragazza che lavora perché è molto intelligente. E quindi che ha 12-13 anni, se non sbaglio, e lavora per la NASA, tipo. Però è carino, è simpatico. Un'americana NASA, però è carino. H2O? Non l'ho mai visto. L'ho solo messo nella lista, ma non l'ho mai visto perché era palloso. Sex Education. Sì, ho visto tutto. Lucifer. Ovviamente. Ho iniziato da serio con quello. Vabbè. Gossip Girl. Se mamma non pronuncia bene Gossip Girl, sì, l'ho rivisto due volte. Ah, bene. Sì, mi piaceva tanto. Distant. Destiny. Dynasty. Dynasty è bellissimo. Dynasty, si dice. Primavera parla di queste persone molto importanti che ci sono intorno alla famiglia. Sì, è bellissimo. Love Alarm. Love Alarm è quello coreano. Quello dell'applicazione che dice se è compatibile o meno. Quello mi sono messo a piangere, è bello veramente. Get Even. Get Even. Get Even. Può vedere com'è? Assomiglia molto tipo ad Elite, ma non mi ricordo. No, ho mai visto. Non ho messo nella lista, ma non l'ho mai vista. Ecco. È tipo comunque Elite. È simile. The Protector. Dopo ovviamente abbiamo visto. The Rain. Ho detto The Rain. Ok. Colony. Ah, beh, Colony è bello anche. Scam Italia. Che bello Scam Italia. È tipo come Skinsam inglese. Guardate quello che è bellissimo. La Regina degli Scacchi. La Regina degli Scacchi. È una miniserie, è proprio una serie. Però è bellissimo. Mi è piaciuto anche quello. E io non amo gli scacchi. Perché tutti mi hanno detto. Perché tutti pensano che chi ama te gli scacchi guarda la Regina degli Scacchi. L'ho visto perché me l'hanno consigliato. Mi piaceva, era carino. Another Life. Another Life? Forse me l'ho. Fammi dare l'immagine. C'è una lona. Bello, anche quello che è bello, carino. Alternate Carbon. Alternate Carbon. Io mi ero enamorato di quella serie. Non l'hanno più continuata. La suoria guerriera. Ah, Warrior Noon. Warrior Noon. Quello era bello. Mi è piaciuto, sinceramente. Warrior Noon è bello. Non è The Noon, è The Warrior Noon. La suora si dice così. Curon. Curon, quale era già? C'è un diavolo. No, non l'ho mai visto. Mi sono nella lista. Beh, io ti sto vedendo dove ti scrivete. Non lo so, quello che dico, mi metto nella lista, ma vuol dire che l'ho visti. L'alienista. Ovviamente, l'alienista, sì. Meglio di noi. Vediamo. E quello lì che tutti l'hanno criticato. Questo qua. A me è piaciuto. Ah sì, quello della tipo robot, se no quello è bello. Meglio di noi. Ah, quello della nebbia. Si chiama la nebbia. Ah, la nebbia. Quello della nebbia si chiama la nebbia. Perfetto, è molto facile. La casa di carta. Ovviamente, la casa di carta. Tutta, fino alla fine. Dopo che mi ha rotto il cazzo, Sara, per... No, sì, la mia amica si chiama Sara, come me. Chi me lo chiede, nonno sono passos, ho due amiche che si chiamano Sara. Non parlo di me, stessi in trenta persona. Comunque, dopo che mi ha rotto il cazzo, ci siamo visti la casa di carta. Ben giusto. Poi? Sì, quella roba impronunciabile dei due ragazzi, bla bla bla, fucking qualcosa. Sì, lui mi dice... Ci sono un po' rimasta male per la seconda stagione, però è carina, dai. Baby 18. Qual è? Baby. Pese a un grande titolo. Beh, non si può solo Baby. Per carità, orrenda come serie. La prima stagione mi è iniziata a piacere, poi quando... Mi sembra un po' il film di tredici anni... No, mi ha piaciuto tantissimo. Wee Wharf. Wee Wharf qual era? Penso che era sempre dei licantropi, qualcosa. Non l'ho mai vista, ho il pezzo solo perché c'era il protagonista di The Vampire Diaries. L'avevamo vista insieme un pezzo e un po', poi ci siamo persi. No, non me lo ricordo proprio, me l'ho messo solo perché c'era quello figo. Ecco. Society. Society, con la Sia. Prova a sfidarmi. Mai vista. Ok. Strega per sempre. L'ho iniziata a Mamara Pallosa. Ecco. Luke e Kay. Quello delle chiave. Ah, Luke e Kay, sì. Quello della chiave, quello sia bello. Benissimo. Scream. Sì, la serie tipo di Scream. Ah, devo dire che era carina la serie tipo di Scream. Glitch. Quale è Glitch? Quello del Glitch che tutte le persone morte risuscitano. Non me lo ricordo. Ah, quello lì... Aspetta, ho capito qual è. Quello dove c'è la città che fa risuscitare le persone. Quello era bello, mi piaceva quello. Glitch. Black Mirror. Avevo solo fatto vedere l'episodio, quello lì, con il telecomando che potevi scegliere la risposta. No, ma per carità non piaceva. Ma se non l'hai mai visto. Spinning Out. Sì, quello è bello. Sì, quello è bello. I am not... Ok. I am not ok. Sì, bla bla bla. Quella. A vedere l'immagine. C'è una ragazza che spacca qualcosa. Sì, quello è carino. No, è carino. L'ho visto sempre quello per ragazzini. The Ratchet. The Ratchet è bello. Allora, molti l'hanno anche consigliato. Io l'avevo già visto. Me l'hanno consigliato su Netflix. Io l'ho visto e devo dire che mi è piaciuto sinceramente come storia. Anche se è ambientato un po' negli anni passati. Chambers. Devi far vedere le immagini. Questa. Qual è? Non so se poi... Ma dov'è? Non lo vedo. Non l'ho mai visto. Luna Nera, sì, l'ho visto. La Luna Nera. Luna Nera è ambientato all'epoca più o meno dei cavalieri, quelle cose là. È veramente bello. Vampiri. Qual è? C'è un tipo. Fa schifo. Ah, ecco. L'ho vista, ma è caro. L'ho vista. Cioè, non è né brutto né bello. C'è di meglio, però. Io. Fa schifo. Santa Clarita Diet. Mi sento insieme è carina, quella lì dei zombie. La moglie è diventata la moglie zombie. Quella è carina, la moglie è carina. Non c'è di zombie che fa ridere. Daybreak. Devo vederla. Te lo consiglio io, è bellissima, stupenda. Vuoi dire com'è? C'è una bocca di zombie. Un po' si chiama Black Mirror, si chiama? No, no, questa. Ah, quello. Non vedo niente, amore. Me la metti tutta storta. Qua. Non l'ho mai vista. Però la consiglio. Guarda nella mia lista, perché vai a vedere quelli lì consigliati? Eh, ma perché... Eh, no... Vedi qua. Scelte, novità. Che fai sulla mia lista, no? Ah, sì. Se vado nella tua lista, c'è un bordello di film. Per quello. Sulla mia lista così non perdiamo tempo. Il film è quanto... Poi... Allora, vediamo se vi ricordo alcuni. Poi cosa ho visto? Eh... Decentro lo stai riguardando in muo con mio padre, vale? Eh, beh, vale. E poi ho visto... Aspetta, The Under Zombie, sì. Van Helsing. Sto cercando di ricordarmi. Raccontami di un giorno perfetto. Sì. Battle. Fa piangere. Eh, beh, ecco. Dalla foto si capisce che fa piangere. Questo qua, raccontami di un giorno... No, è bello, però è triste, anche drammatico. Stiamo sul mio o stanno sul tuo? No, no, sono il tuo. Sono... Ok, vai. Sto ballando nei tuoi. Battle. Battle è quello che ballano. Ok. Qual è che è? No, è bello. Sto saltando i film, perché... Sennò metto anche i film. No, no. Eh. Ce n'era uno dove ballano, sono ballerina, sono sveglia, che era bello, perché parlava anche di delitti, quelle cose là. Code, ah no, Code 8 è un film. Deo, Deoa. Sì, diciamo che... No, non è brutto, è particolare. È così, però bello, dai. Alive. Alive. Fammi vedere sempre l'immagine. Degli zombie, quella che... Da live. Ashtag live. Sì, l'abbiamo visto insieme. Ecco la... Ecco la... La mi faccio io. Non te l'insegna più. Allora. No. Non ti rubo il telefonino, eh. No, lo so. Allora. Ciao. Poi, quello che ho visto è stato Nana, che anche se è un anime, comunque è appuntato. È una serie. È una serie, sì. Poi, questo non l'ho vista, ma sono nell'elenco. The Perfect Landing, non l'ho visto. Omniscient, non so se è un film o una serie tv. No, è una serie, l'avevo iniziata, però non l'ho mai finita. Ne ero a metà. L'ho iniziata perché... Allora, questo qua c'è una storia. L'ho vista in tv e avevo già visto la seconda stagione, mi sono vista la prima. Qua, giusto. Poi... Vediamo un po'. Questo qua è una serie. No, questo è un film, niente. Da Dinasti, qua. No, questo è un film, film. Ai zombie l'ho già detto. Ah, D'Umbrella Academy. Bella, anche quella. Ares fa schifo. The Order l'ho messo, The Reign l'ho messo, Lucifer l'ho messo, L'Ovarlarme l'ho messo, Skins l'ho... Ah, Skins, vedi che c'è anche qua Skins. Che sword atto online. Cason Creek, strega per sempre, Stranger Things, Dark, Scam Italia, Sabrina Deandred, The Protector, Who... Come ho conosciuto la madre? Chica Vampiro, Shadow Hunter, Merlin, Outer Life, Gossip Girl, L'Alienista, Alice in Bonnerland, cioè sono i miti casi. È vero, è vero. Quello è, infatti. Warrior Noom, Colony, Alternanti Carbon, Escape Room, che è per un film. È un film. Niente, scherzavo. Se vuoi fare poi un video di film. Joker, questo è un film, Meglio di Noi, perché c'ho tutti dappertutto che mi fissano. Lupin. Lupin. The Old World. Praticamente questo qua l'avevo visto, non è un film, infatti. Niente, scherzavo. Baby fa schifo. Spinning Out, dovrebbe essere un film, no, è una stagione, no, non è una serie. È quello dove pattinano. Praticamente avete presente l'attrice che fa in Skins, la sorella del protagonista, è lei. Praticamente bellissimo, lo consiglio, Spinning Out di pattinaggio. Poi c'è sempre Glitch. Insomma. Baby fa schifo. The Unlisted, La Casa di Carta, poi Alona Holmes, è carino. Però penso che sia un film. Sia un film di due o tre minuti. Però comunque vuole tutto quello che bello. Society, Look at the K, questi sono tutti i film. Travelers, l'ho già detto. La prima parte e quella seconda è tutto. Provo a sfidarmi, questo qua è carino perché parla di cheerleading, praticamente. Giusto. Questo non l'ho mai visto. Ah, Teeny Pretty Things, è quello che ci vuoi del ballo. Praticamente parla di una ragazza che viene messa in questa scuola di ballo prestigiosa perché una ragazza l'hanno tutta di ammazzarla. Tutti pensano che sia un suicidio, invece non è vero. Però è molto bella, ve la consiglio. Poi Ratched, l'ho detto, era molto bella. Mi è piaciuta. De Pau, penso che sia un film, aspetta. Ok, è un film niente. È un film anche questo. De O non è un film. Non è quello dove ballano, come dei deficienti. Sì, il ballo del coca. Non è un ballo del coca, dai. Però è bello. A me è bello però... Molto fisico, sicuramente. Ci sono dei problemi psichiatrici però è bello. Molti. Poi, è questo un film? Vediamo un po'. Nella spiegazione di De O c'è proprio il... Scrimo, l'ho già detto. Il registro. Ma lei, se no mi devo un po' in fondo. Vampiri che... Nii. Questo è un film. Questo dovrebbe essere, se no per io... No, questo è un altro film. Un altro film. Ah, Battle. Sempre ho detto Battle. Invece qual era? È un film, scherzavo. Allora, quando mi è un giorno perfetto, che è un film. Giusto. E poi c'è... Boh. Ah, mio, un amore felino, era un film o era una serie? È un film. È un film, boh. Le altre non ci sono. Perché non ci sono? Merlin, quelle lì, le ho detto che non c'erano. Le altre le ho detto quasi tutte. Poi le altre, mi ricordo più le altre. No, le altre... Il bello è che ne hai viste tante. Lo so. Ma loro non ci sono scritte tutte. Perché non sono scritte? Non lo so, ma lei che ne so. Perché non sono scritte. Perché non le ho viste comunque le account. È molto semplici. Abbiamo fatto totalmente quelle... Comunque, più o meno sono quelle. Sì, ma non è calda. Infatti Orphan Black non c'è. Non c'è manco... Le altre che ho visto. Quelle erano le altre, tipo... Ma i zombie c'è, no? Beh, lusi, quelle... Vabbè, sono quelle principali... Sì, beh. Il momento che abbiamo messo nei... Van Helsing nemmeno c'è, però l'ho vista. Anche Dracula. Dracula l'avevo iniziato a vedere, ma c'era schifo. Stessa cosa con... Questa prima l'ho pensato. Qual era? Ah, Freud. Freud ho visto. Era qua a fine della quarta puntata, però sto potendo. Troppo pesante. E poi mi ha sfilata a me di vederla tutta. Sì. No, non tutto. Proprio vederti i primi quattro episodi senza... Dimmi due senza addormentarti. E a me piace. Poi, secondo me, cosa l'ho visto tra l'altro? Merlin l'ho già detto tre volte. Hai detto all'inizio alla fine. Ho visto tre volte Merlin. Anche questo più caro visto all'inizio alla fine. Poi altri non mi ricordo. Perché se ne ho messi anche altri nuovi. Il più bello sono anche Snoopyers. È molto bello. Snoopyers è tipo non c'era nella lista. Perché? No, è perché non è una cosa da vedere. Ah, perché ancora da sì. Giusto, perché è ancora in corso. Poi altri... Non lo so, ce ne sono tantissime. Vabbè, abbiamo... Se mi verano in mente per fare un altro video. Alla fine l'abbiamo vista tutte e due insieme. Sì, ma perché l'altre l'ho vista in altri account che avevamo creato di Netflix a scrocco. Tanto lo sanno tutti che andavano a scrocco con l'abbonamento di un mese. Quindi... Eh, no, questo è questo qua principalmente, diciamo. Poi magari altri ne avrebbero visto, ma non me ne dico più. Almeno sì, ma al prossimo video... Il suo video cercherò di resumare le altre, magari gli altri. Perché poi vi ricordo anche un video io su The 100. Sì, è proprio andato avanti. È giusto. Perché il mio video... La mia incisione su The 100 l'ho fatta pensando che l'ha finito. Fino alla terza, quarta stagione, se non sbaglio. Poi sono andata avanti. È giusto. Ancora. Pensa che The 100 deve essere solo di una stagione. Ah, dovremmo fare poi video dei film, poi. Bello. Vabbè, non è che sono solo di Netflix. Questo video si termina qui. Sono tutti i telecomini che ho visto. Sono anche qualche film, va bene, lo stesso. Non vi lascio sotto la lista perché non c'ho l'euro di iscriverla. Sarebbe poi troppo lunga. Non la fate, sarebbe supporto. Comunque sì, non mi siete tanti. Poi mi piace essere tv perché mi piace più le serie tv. Guardo anche i film, però... Tipo a saga. Ormai è diventata la sua tv. Sì, infatti abbiamo dice... È la tv accesa. No, ma è Netflix. È la tv, sì, c'è. Da volte guardo Dottor House o Gotham. Vi faccio una domanda che la faccio anche a lei. Se siete arrivati fino a qua. Ah, andiamo bene. Se siete, se vi toglierete, togliete Netflix, vi toglieste Netflix, cosa vi capiterà? I verbi non sono i suoi. Sì, no, non sono i miei fatti. Ma se mai vi privereste di Netflix, cosa fareste? Quale sarebbe la vostra reazione? Che non so perché che sto parlando alla sera. Mi guardo YouTube. Saranno guardando i video su YouTube. No, è una bella domanda, perché se non esisterebbe Netflix... Ero viva anche prima di Netflix. No, vabbè. Facevo altro. Non mi adatto. Però, essendo che Netflix, diciamo che, mi ha preso ponderatamente un dicembre di due anni fa. Con The Witcher. Di due anni fa, sì, quando mio cugino poteva guardarsi su Netflix The Witcher. E ho detto no, ma dobbiamo pagarlo. Dobbiamo comprarci Netflix, perché ormai non potevamo fare gli account per un mese, perché Netflix ci aveva sgamato a noi e altri dieci miliardi di persone che facevano le stesse cose. E l'altro, il mese è gratuito. Quindi abbiamo detto, boh, lo paghiamo. Cediamo anche noi, prendiamo Netflix. Ma tantissimo, ci vedranno anche gli altri, che non ce l'hanno ancora. Ma sicuramente. Alla fine tutti ci cadono. Anche il mio cugino è caduto. Su Facebook una ragazza mi ha scritto, c'è la serie, è di un cartone animato. Sì, sì, ma ormai perché mettono di tutto, mettono. E si trova solo su Netflix. Ha detto, no, devo farmi Netflix. Non si trova per Netflix, solo per Nana. Mi pensa. Io Disney Plus non ve lo farei solo per cose, sono sincera. Solo per la Marvel. Io no, perché sinceramente, allora, non perché mi piace la Marvel, eh. Però, non lo so, abbiamo avuto Disney Plus insieme, ma non mi fa impazzire. Mi preferisco Netflix. Ma perché più... Dovremmo rifare il video. Perché un'altra l'hanno fatto su NaoTV, cioè dobbiamo rifarlo. Cosa preferisci? Disney Plus, Netflix, Infinity, Prime Video. Adesso ce ne sono molti di più. Mi piace come idea, la farò. Anche se a me non mi piace, la faccio lo stesso. Vi saluto, perché il video sta durando più di 23 minuti. Io dovevo contendermi dei video, l'avevo promesso. Ma questo, vabbè, me l'ha chiesto una ragazza, lo faccio. Quindi è colpa su un po' picchiata lei. Va benissimo. Ma si cattive. No, vabbè, per questo video ci vuole un po' di tempo, per forza. Alla prossima. Vi salutiamo. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao.